I ragazzi ci sono, i ragazzi e le ragazze ci sono in fondo, ma il ruolo di spiegare molto rapidamente perché siamo qui oggi, tocca a me. Como Senza Frontiere è una rete, non è un'associazione, è una rete di associazioni che a partire da circa due anni fa ha cercato e cerca di mettere insieme realtà molto diverse unite da obiettivi comuni, le realtà sono associazioni culturali, sono parrocchie, sono altri enti religiosi come i Comboniani, sono partiti politici, sono organizzazioni sindacali e viene in questo passo, qualcuno si occupa di assistenza, di accoglienza, qualcuno si occupa di informazione, qualcuno si occupa di arte. Tutti insieme abbiamo valutato che ci si dovesse impegnare per un cambio radicale di prospettiva sulla questione delle legazioni, è un cambio che si inserisce ovviamente nel contesto che ha appena finito di raccontare, non giusto e che quindi non ripeto, ma che ci riguarda tutti, noi direttamente. l'obiettivo è allo stesso tempo banale e altissimo, assomiglia molto a una missione impossibile ed è quello di cambiare la percezione delle migrazioni che non sono una questione di emergenza ma sono ormai un fenomeno strutturale, fanno parte e faranno sempre più parte della quotidianità globale e locale. Se non cerchiamo di capire questa cosa, se non cerchiamo di stare nel modo giusto all'interno di questa cosa siamo, ahimè, destinati a soccombere. Allora, Comunità Senza Frontiere cerca di fare cose molto diverse, operare sostenendo le buone pratiche che esistono, coordinando i diversi soggetti, entrando in relazione anche con le istituzioni, una relazione faticosissima, molto tortuosa, ma comunque indispensabile per cercare di risolvere alcune situazioni. Dalla periferia dell'impero, come siamo nel Comasco, è difficile riuscire a scarpire le dinamiche globali, ma certo qualche granellino di sensatezza in un meccanismo veramente perverso possiamo provare a inserirlo. Tra le cose che Comunità Senza Frontiere fa da due anni a questa parte è una volta al mese la marcia dei nuovi tesopressidos, cioè un appuntamento mensile, in genere itinerante, quasi sempre a Como, ma l'abbiamo fatto anche a Villaguardia in occasione dell'isola che c'è, quello che una volta, ma io non c'era, quindi potrei sbagliare, ma è stato fatto anche già a Cantù, per portare in mezzo alla gente la consapevolezza di questo problema, la consapevolezza che sulle fronte migratorie la gente continua a morire, a decine di migliaia, e noi non possiamo sentirci assolti, come avrebbe detto D'Aulteri. Davvero questa è una responsabilità nostra. Allora noi, una volta al mese, per un'ora, cerchiamo di coinvolgere la gente portando, esponendo queste fotografie, alcune delle poche fotografie, poche immagini dei volti delle persone vere che sono state assassinate sulle rotte delle migrazioni. Ma cerchiamo lo stesso di farlo. Oggi non ci sembrava il caso di camminare per un'ora in mezzo a voi, che speriamo siate già insensibili a questa tematica, e noi presentiamo una sorta di piccolo simbolo di questa marcia. Dietro le serie in cerchio sono state messe alcune delle foto che usiamo, delle fotografie che usiamo, mentre i ragazzi, come avrebbe detto lui, mi stanno consegnando un volantino, che è quello che ogni volta cerchiamo di affrontare un tema diverso, sono stati affrontati i temi appunto delle rotte migratorie, delle barriere che vengono elevate, delle banche armate e del finanziamento delle guerre che poi provano le migrazioni. Oggi, ma lo potete leggere direttamente, il tema è quello del punto di contatto. Ovvio, ma bisogna sempre avere coscienza tra la lotta contro il razzismo e la lotta contro il fascismo. Non a caso l'appello dell'ANPI a livello nazionale, sottoscritto anche da altre 25 organizzazioni varie, si intitola «Mai più fascismi, ma i più razzismi». Il punto, proprio la questione delle migrazioni, dell'accoglienza è un punto fortissimo. Sul volantino troverete tre brevi sintesi dei più recenti episodi in cui si mostra evidente la saldatura dei comportamenti razzisti e dei comportamenti fascisti, la saldatura tra neofascismo e occhio nei confronti degli altri, degli stranieri. cito solo l'ultimo, che è proprio di questa notte, a Parma è stato esposto da parte di una organizzazione neofascista, lo striscione, ora è sempre esistenza etnica. In questa follia c'è davvero l'essenza del problema che noi dobbiamo affrontare e lo dobbiamo affrontare anche il 25 aprile, senza dimenticarcene, perché se noi commettiamo l'errore di separare questi due orizzonti, quello del fascismo, del neofascismo e quello del razzismo, non capiamo più niente e soprattutto non capiamo neanche come i comportamenti attuali si saldano a una serie di comportamenti che ci sono già stati nella storia e di cui conosciamo gli esiti. Non possiamo far finta di sapere come va a finire. Questa è la ragione per cui questo piccolo simbolo ripetuto oggi è la ventitresima marcia, ma appunto è una marcia ferma per oggi, però davvero tanto vi invitiamo a venire con noi, le marce sono sempre preannunciate attraverso il sito, il blog di Como Senza Frontiere, ma anche attraverso gli altri strumenti di informazione, primo fra tutti ecoinformazioni, che fa parte della rete Como Senza Frontiere, vi invitiamo quindi a partecipare e vi invitiamo anche a praticare ogni giorno, ogni momento, anche il 25 aprile, comportamenti concreti che vadano in direzione contraria a ogni fascismo e a ogni razzismo. Grazie. Noi ripetiamo.